Ciao a tutti, benvenuti in un video in comodità di metano Ola Oggi siamo qui in questo nuovo video degli Hunger Games Quindi mi raccomando ragazzi lasciate un like Quanti like devono lasciare Tano? Quanti? 5 5 like, mi raccomando ragazzi 5 like, nuovo episodio delle Hunger Games Perché ho detto delle? Non lo so, buona visione Non so nemmeno cosa si sta registrando Luna, ripigliati Ok ragazzi siamo in partita Tano dove sei? Eccoti Ma non ho cominciato, non me ne ero accorto Dai, dai Tano, dai Oh, una spada Oh Tano, Tano, Tano Ho preso tantissima roba Vieni, vieni Tano, dove sei? Vieni dietro di me Oh, che scemo Ok Oh, fa malissimo Ce l'hai fatta Luna, ce l'hai fatta Ti prego io, ti prego io Ce l'ho, ce l'ho Allora, io ho sharpness 3 alla spada Quindi fa... Vabbè, è buono Fa più danno di quella di diamante Perché io ho anche quella in diamante Non so dove si sono andati a buttare Sono davanti a noi proprio Sono messi bene, sono messi bene Che si fa? Eh, proviamoci Mi hanno visto Io ce l'ho l'arco Io ce l'ho l'arco Vabbè, proviamoci Eh, no, l'arco, scusate Ok Ah, sono messi benissimo Però potevamo farcela, secondo me No, secondo me no, secondo me no Non in queste situazioni Ok, proviamo Proviamo a beccarli dopo Io non mi sarei in grado di affrontarli Oh, guarda, lì ce ne sono altri due Poi però sono messi bene quasi tutti in questa partita, Tano Eh, mi sa di sì Andiamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa Non so se quelli stanno scappando Sono in carenza di cibo, io te lo dico, eh Oh, oh Ecco, l'ho trovato L'ho beccato da solo, questo, eh No, Luna, questo mi uccide Questo mi uccide un cuore Sono morto Oh, cazzo Eh, non c'avevo cibo per rigenerarmi nemmeno Tu ce la fai? Allora, mi faccio uccidere, mi faccio uccidere Ok, eccoci ragazzi Siamo qua in partita Su Jurassic La mia mappa preferita Ho fatto pure la rimita Bla 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 Papapapa Papapapa Ho un'arma Ho un'arma e due armature Oddio, io ho preso tutto qua praticamente Corri, corri, Tano, corri Di qua, di qua Hai bisogno di qualcosa, Tano? Ho il cibo crudo, però va bene così Io ho un po' di cibo cotto Ma molto poco Va bene, no, un pochettino ce l'ho pure io Da quel partito Tu lo scudo lo usi, Tano? No, mai, mai Di qua Ok, perfetto Ho una spada con knockback E una con sharp nessuno Quale vuoi? No, ce l'ho già la spada Come ce l'hai? In schifo, però tranquilla Non ti preoccupare Perché non è importante di cosa ce l'hai Ma come la usi Questa citazione è un po' Aia, aia I lupi, lupi, lupi Lupi, lupi No, 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 sono morta io adesso Sono morta io No, come sei morta te? È un cuore, mezzo cuore Morta No Ok ragazzi, eccoci su Ruins Stiamo per fare una partita Ok, ci buttiamo Io ho potuto risaltare qua sulla lava Eh, ma in realtà siamo un po' immortali Quindi tecnicamente non dovrebbe farci Tecnicamente però Non so mai Oh, oh, oh Due Ender Pearl Oh Corri Tano, dietro di me subito Aspetta No, non ce l'ho fatta prendere una spara Cavolo, ho cliccato quella sbagliata sempre Tano Che roba ho? Che roba ho? Non lo so Ma non so nemmeno dove si finita te Sono qua Ah, ok, sei sulla strada Sì, sì, sì Ok, io non c'è nessuno Una Ender Pearl Ok, ah, ancora la roba in mano Sta scappando Una vita Vai, vai C'è uno che arriva dietro L'hai ucciso? No Aia, aia, aia no Mi hanno stuprato male Ma come cazzo Ok ragazzi, eccoci qua in partita Allora Tano Tu, secondo te da che parte dovremmo andare? Non ne ho la minima idea proprio No, mi sono buttata nella lava Eh, vabbè Oh, ho due spade Ho due spade E un arco inciantato Ok Ehm Andiamo Boh Non lo so Io guardo a continuare a prendere cose Vieni qua Tano Dove sei? Dietro di te Dietro, dietro, dietro Guardami, guardami, guardami Sì, ti ho visto, ti ho visto Corri, corri Ok, forse mi volete uccidere Buttati nell'acqua Così Che l'ho fatta forse Guarda se uno ci butta dietro di me Eh, no Tano no Ok, no, perfetto, perfetto Ok, qua c'è una cesta Hai un'arma, te per caso? Sì, ce l'ho per tutte e due No, in verità ce l'ho anch'io l'arma Era per sapere se ce l'avevi per te Sì, sì, però se ti serve ce l'ho No, no, tranquilla, tranquilla Ho già fatto io Ok, ho anche un arco No, ne ho due Power 1 e punch 1 Tieni, ti do quello con power Ma che spara è buona? Ah, l'arco No, non è granché Ok, vieni di qua Andiamo Vediamo se troviamo qualche chest E beh, si spera di sì, eh Comunque le chest dovrebbero essere Sì, sì Però Tu la mappa la conosci o no? Mmm, poco Molto poco Conosco di più giudati Ah, qua c'è una cesta Qua c'è una cesta Vediamo Vuota Mi sa che c'è già passato qualcuno di qua Ah, qua c'è della carne Mmm, forse sì Ma non vedo nessun nome Mmm Allora, vediamo Vediamo Andiamo da questo lato Questa è la piena Uh Cosa c'è? C'è una spara in ferro Oh, sopra c'è un nome Sopra ci sono due nomi Tanno attento Oh, oddio Proviamo a ucciderli Proviamo a ucciderli Non sono messi bene Ok, l'ho visti Eccoli, eccoli Guarda, non hanno nulla Proviamo a salire Sì, sì Ah, eccolo, è sceso Aspetta che sto correndo un pochettino male Ce ne sono altri due a destra Quindi siamo a tempi Aspetta, questo qui ci vuole buttare di sotto forse Uh, l'hai ucciso Sì Ok L'altro È qua Aspetta, ci vengo anch'io Ok Ok Che la fai? Ce n'è uno sulla destra poi, hai visto? Aspetta Ok Ok, perfetto Ci vado diretto io, ci vado diretto io in quello lì Vai Che sono due in realtà Sì, vabbè Io prendo quello rosso Oh Eh, sono tutte e due rossi Sì, no, no Rosso nel senso con la skin rossa Ah, ok Ok Ce la fai? Non ho vita Uh Ok, te l'ho mazz... Tutti te alla fine Boom Boom proprio Non ho vita però Oh, ce n'è uno sulla destra, hai visto? No Dove? Sta arrivando sulla destra Ah, ecco Davanti a me praticamente Vai, vai Non ho vita, io ho veramente poco Però comunque un colpo glielo voglio tirare Eh, aspetta, aspetta No, 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 nulla, no, nulla Ok Ah, la TNT Vado un pochettino anche con l'arco Aia, 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 aia L'ho colpito Mi fa malissimo, mi fa malissimo Sì, sì, sì Questo qui mi uccide con un colpo Questo mi uccide con un altro colpo Scappa, scappa Tano, scappa Eh, che si fa? Aia, 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 aia Ho due cuori, ho due cuori Scappiamo, scappiamo L'ho ucciso Oh, GG Con l'arco Ha tanta roba, vedo Eh, sì, ci passo un pochettino Io sopra Eh, attento, attento Senti, allora Io rimango così In modo che comunque Se arriva qualcuno lo vedo E guardo un pochettino cosa aveva lui Allora, una spada un po' schifosa Non aveva nulla Eh, no No Io in verità mi mancano Un bordello di pezzi Ancora che puoi vedere Tu che sparai? Mi dici, che materiale? Eh, oro con unbriching No, adesso ferro senza niente Ti posso No, non ti posso dare nulla Dile vero Perché quelli che ho io sono uguali Eh, va bene, dai Io adesso Hai un diamante? No Peccato Da che parte si va, allora? Ho un power 2 Tieni, un power 2 Ecco perché faceva così male Ah, ok Vabbè, a parte che lui era power 1 Eh, appunto Per questo dico Ah, perché tu avevi già il power 2? No, no Lui aveva power 2 Allora, c'è uno sopra, hai visto? No Due sopra, qua sopra Eh, come si sale dalla Ah, eccolo Sì, da qui Guarda Ok, ok Perfetto, perfetto Io ti seguo Vai Aspetta Non so se ce la facciamo sinceramente Perché sembrano messi bene comunque No, in realtà Che uno l'ho visto Mi sembrava volesse il cappellino in diamante Mi sembra Quello che ho visto io era tutto dorato Oh, ce n'è uno qua sotto Ce n'è uno qua sotto Guarda, non per dire mai È messo meglio di me comunque Io non ho armatura Forse tu non l'hai visto Ce ne sono un paio qua sotto Eh, aspetta Te ne passo io un po' Te ne passo io un po' No Ok, l'abbiamo colpito un paio di volte Ma niente di che È morto, l'hai ucciso L'ho ucciso, l'ho ucciso Vieni Tano, vieni Attenta che c'è quello dietro Attenta, sei attenta Io ho due pecce Eccolo, eccolo Ok Aspetta Aspetta No, no, non fare nulla Non fare nulla Non fare nulla L'avevo quasi colpito Lasciamolo scappare per ora Ce l'hai un'armaturina? Attento Tano, attento No, cosa vuole fare? Ok Tieni, tieni Tano Tieni 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 No, più che altro un corpetto E il corpetto ce l'avevo solo in pelle Te l'ho passato Sì, ok, vabbè È sempre meglio di niente Perché io manco ce l'avevo quello lì Quindi Top Ok, è lì che scappa lui Proviamo Si sta sistemando, vai Allora senti Non aveva gran che Quindi se scappa vuol dire che non aveva gran che Ok Raggiriamolo un pochettino Eccolo, eccolo No, l'ho mancato Ok E io l'ho preso invece Sì, ma se lo colpisco io Però non ho molte frecce Ne è rimasta una sola Io quattro, purtroppo Ok Eh sì, sì Se lo manchiamo cerchiamo di colpirlo Il fatto è che se tiriamo su un altro frecce Lui prende distanza Comunque prima o poi si fermerà per mangiare Io cerco di tagliargli un pochettino la strada Ok, lui si è fermato Ok, perfetto L'ho colpito Due volte Aspetta, aspetta Lui non ha vita, non ha vita, non ha vita Ok No Dai, dai Mannaggia le frecce Veramente managgia le frecce Ha pochissima vita Non ha nulla di vita Mi devo fermare un attimo per mangiare Io l'ho una sera sola Ok Ci sono dietro di nuovo Ok Ho messo la lava? Non lo so Ucciso Uh Uh Ok, ok, buono Mi è rimasto un team Ho un diamante Ho un diamante Ho un diamante Polvero Tieni il mio diamante Così almeno No, no, usalo tu Usalo tu No, no, no Io ho la spada che è migliore della tua Di poco Eh, però Ho bisogno di una crafting table, però Eh, stanno al centro Dobbiamo andare Eh, dobbiamo andare al centro, sì Dammi un attimo Dammi un attimo Devo mettermi l'armatura che ho rubato Allora, io devo capire Eh, io devo capire che cosa devo mettermi Perché non ho molto Eh, le scarpettine qua ci sono meglio Dove? Qua, qua, qua Nella spazzatura Ah, eccole Io intanto guardo un pochettino intorno Oh, ma che spavento, Tano Credevo Ok, ho messo le scarpe Che altro c'è? Eh, non vedo nessuno Eh, non aveva Non aveva granché di armatura No, gliel'ho rubata io Ho rubato il corpetto Ma che cavolo Non li uccidere, poverini No, ho bisogno di cibo Ah, 70 fami, tieni, guarda No, no, un po' di cibo ce l'ho Però Ne ho bisogno di altro Allora, io ho una buona arma di diamante Cioè, ho una spada No, guarda La mia non è male Cioè, non ha sharpness A Knockback, mi sembra Knockback 1 Che non fa poi tanto schifo Però, quindi ci può stare Però Da che parte si va? Sarebbe Tutto carino Allora, andiamo verso il centro Così ti puoi craftare la tua? Eh, sì Andiamo, andiamo Io ti seguo Dovrebbe essere di qui il centro Ma in tutto questo Quindi tu non me l'hai lasciato nemmeno uno Le levavo la vita io Ma le cili di te Cioè, per dire Cleanupper Di cattiveria Ah, penso che tra poi ci sia anche tipo Eri più delle teste Ah, eccola, eccola Dai, io ti guardo intorno Vai, vai pure Ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho Fatta? Vai Ehm Per caso se si fa il gianto Si può anche incantare Secondo te? Sì, sì Si può Hai livelli? Io no Non abbiamo trovato Bottolo vencente Io ne ho una Saliamo di qua Ma una non è un livello Ah, dobbiamo stare attenti Tanno perché tra un po' inizia Tra tipo sette minuti Sì Eh, sì Vieni di qua Giusto un pochettino ecco Cioè, nulla di che Eh, vabbè, però comunque Dobbiamo stare attenti Ma non sono sicura C'erano sette minuti Che inizia a restringersi No, si sta già restringendo Se è per quello, eh Ah, appunto Quindi dobbiamo stare al centro Ah, sì, sì, sì Io intenevo il deathmatch Erobe varie Eccola, eccola, eccola Cos'è? E da qua l'entrata L'entrata, l'entrata Per il centro Aspetta che io Ti sto perdendo poco a poco Vieni, vieni Oh, vedo i nomi Vedo i nomi Sono dietro di te Dirimi, dirimi, dirimi Ce la facciamo? No, non lo so Non lo so No, sono messi male Sono messi male Io, uno, uno Mi ha dato Ma che cavolo è? Boh, vabbè Mi è venuto un rumore strano Comunque li sto colpendo tantissimo Questi qua Eh, io ho finito Ho finito Le frecce Ok, nemmeno Dov'è l'altro? È qua Stavo in andate Aspetta Boom 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 Che partita Che partita Raga Che strage Che abbiamo fatto Che strage Anomali Anomali Veramente, raga Anomali Va bene, ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Abbiamo fatto una partita Veramente, veramente bella Devo dirlo Abbiamo fatto un sacco di kill E ho cleanappato Come se non ci fosse un domani Quindi, gg Mi raccomando Cioè, mi arrivano tutte le kill È così che si fa, Tano Così che si fa Tu sei lezzo Quindi dovresti saperlo No, no Quindi, mi raccomando, ragazzi Lasciate un like Iscrivetevi al canale di Tano Che trovate la descrizione Ci sono i prossimi video Ciao a tutti, ragazzi Bella